L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione sull'ISRIM di Terni, l'Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui Materiali Speciali, che punta ad evitare il fallimento e a tutelare i lavoratori. L'atto è stato proposto da tutti i consiglieri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il Presidente Erosbrega, i Vicepresidenti Damiano Stufara e Andrea Lignani Marchesani, i consiglieri segretari Fausto Galanello e Alfredo Desio. La risoluzione impegna la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile volta ad impedire il fallimento di ISRIM e a favorire qualsiasi iniziativa che metta insieme i lavoratori e il sistema istituzionale regionale e locale. L'assessore allo sviluppo economico, Vincenzo Riommi, intervenendo in aula, ha detto che questa risoluzione è fondamentale per rafforzare la trattativa in corso, visto che stiamo tentando ogni strada. Secondo Riommi, la Giunta farà un ultimo disperato tentativo per sensibilizzare quei soggetti che hanno dimostrato qualche interesse per l'ISRIM negli ultimi mesi. L'altra soluzione possibile è un coinvolgimento diretto dei soggetti pubblici. Riommi, infatti, ha sottolineato che non esistono più le condizioni per la cooperativa tra lavoratori e soci pubblici. Iscriviti al nostro canale